Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale dedicato alla fotografia in grande formato e ultra grande formato, sono Marco Naratone. Questa è la seconda di una serie di due puntate dedicata alla logistica, questa è dedicata alla logistica del buio. Come abbiamo visto la volta scorsa, quando io ho scelto la soluzione che per me è ideale per lo sviluppo delle mie pellicole in grande formato, o ultra grande formato, che genere di buio ho bisogno? E quindi parliamo della logistica del buio. Il buio non mi è necessario chiaramente solo nella fase dello sviluppo, ma mi è necessario anche in altre fasi, tipo trasportare il film non esposto dalla scatola al porta pellicola, trasportare il film esposto dal porta pellicola alla scatola, trasportare il film esposto dal porta pellicole alla jobodrum, alla tank verticale, queste che abbiamo visto nella puntata precedente. Ho anche bisogno del buio per esporre, magari voglio stampare a contatto, devo esporre il mio negativo alla carta sensibile. Quindi diverse motivazioni per il buio, non solo il buio in quanto ho bisogno del buio per sviluppare. Quindi questa puntata è dedicata alla logistica del buio. Buon divertimento, alla prossima, ciao! Insomma, ho bisogno di buio, ho bisogno di buio, ho bisogno di buio. Ma di che buio? Dipende dal formato che sto usando. Sì, c'è qualcuno che il buio non ha, non ha bisogno del buio, ma non adopera pellicole piane, adopera formato 120, 135, per loro ci sono delle soluzioni che non richiedono il buio. Noi abbiamo bisogno di buio, un pochino, tanto, tantissimo, adesso vediamo. Dipende un po' dal formato e dalle nostre esigenze di manipolazione di film e di sviluppo. Allora, fondamentalmente cambiare il film alla luce. Cambiare il film alla luce si può fare attraverso un certo numero di soluzioni che sono elencati qui. Si comincia con una changing bag, una changing room, oppure una changing tent. Scusate tutti questi termini anglosassoni, però possono esservi utili perché se fate poi delle ricerche potete adoperare appunto questi termini quindi per avere più informazioni. Quindi una sacca, una specie di spazio per cambiare il film, la changing room, è una tenda vera e propria. Sempre per cambiare il film stiamo parlando di trasportare il film dalla scatola al porta pellicole piane o dal porta pellicole piane, film già sviluppato, alla scatola. Oppure, ma ne parleremo un attimo dopo, oppure portare il film sviluppato dal porta pellicole piane a una tank verticale, a una drum da jobo, oppure una drum patterson un pochino più piccola, oppure altre soluzioni tipo appunto cilindri, rotanti. Allora, adesso andiamo ad analizzare ciascuna di queste voci, cominciando dalla changing bag. La changing bag è questa qui, questo è un esempio, la changing bag della Patterson, è fondamentalmente una sacca, ha tenuta chiaramente di luce, vedete sulla sinistra e sulla destra i due manicottini per poter infilare le braccia dentro, non la vedete ma in mezzo, in pratica c'è una lunga zip che io apro, quindi unzippo, apro, fico dentro il mio per esempio porta pellicola con la pellicola piana sviluppata, ci fico dentro la scatola porta pellicole e quindi poi zippo, chiudo, fico le mani dentro e manipolando la cosa riuscirò a portare il film piano, la pellicola piano, dentro la scatola. Per quelli che queste operazioni non le hanno mai fatte, non spaventatevi, sembra una roba da udini ma non lo è, basta fare un minimo di pratica e si impara a farlo. Allora, la changing bag è raccomandata? No, non è raccomandata, raccomandata, non è raccomandata per un motivo molto semplice, come vedete la struttura è floscia, cioè non è una struttura, non ha una struttura, è fondamentalmente floscia, per cui io l'ho adoperata, ma mai per le pellicole piane, l'ho adoperata per il 120, per il 135, perché? Perché con la pellicola piana, togliendola dal porta pellicole, mettendola dentro alla scatola, alla scatola delle pellicole, insomma, la probabilità che la pellicola vada a strisciare contro le pareti di questa sacca, raccogliendo magari pelucchi, raccogliendo magari qualche granellino di polvere, quindi strisciandola un attimo, magari rigando, insomma, non si riesce a trasferire una pellicola piana dal porta pellicole alla scatola o viceversa senza che vada a sbattere in qualche modo contro la parete di questa sacca. Per questo motivo io non l'ho mai adoperata e francamente non la consiglio. Per noi pellicole pianari, quindi 4x5, qualunque sia il formato, io non la raccomando. Però, ripeto, c'è un sacco di gente che la adopera con successo e tranquillità, con formati 135, 120 e così. Passo successivo, il passo successivo è la changing room. Ecco, changing room, questo è un esempio di changing room della Calumet, vedete subito la grossa differenza. Qua c'è una struttura, e di fatti è uno spazio, non è una sacca, è uno spazio, anche qui i due manicotti li vedete a destra e a sinistra, si ficcano le mani e qua c'è un vero e proprio spazio. Quindi la probabilità di trasportare, di riuscire a trasferire il film da una parte all'altra senza che vada a sbattere contro le pareti è molto alta, quindi si può fare questi cambiamenti in sicurezza. Ci sarà, io non l'ho mai adoperata questa changing room della Calumet, quindi ci sarà una zip da qualche parte che permette di ficcare dentro, prima di cominciare tutte le operazioni, il porta pellicola e la scatola, dopodiché si fa l'operazione e dopodiché si estraggono le mani, si riapre e si toglie tutto. Le dimensioni non le so esattamente, non mi sembra, sicuramente non è una soluzione per chi fa dell'ultra grande formato, a cominciare dall'11x14, probabilmente non funziona neanche con l'8x10, qua potrei sbagliare perché, ripeto, vedo la foto, insieme a voi, non conosco esattamente le dimensioni, però vedendo i manicotti mi viene il dubbio che 4x5 sicuramente è un'ottima soluzione, 5x7 magari funziona anche, 8x10 varrebbe la pena di controllare un attimo le vere dimensioni quando è strutturata per vedere se effettivamente risponde alle nostre esigenze. Se non rispondesse alle nostre esigenze c'è la soluzione un po' principe per il grande formato che è la changing tent, l'esempio qui è la regina delle changing tent, cioè la Harrison. La Harrison viene in almeno un paio di dimensioni, ma forse anche tre, e come vedete qui è una vera e propria tenda, cioè ci sono queste due aste flessibili che tendono tutta questa struttura, quindi la tengono sollevata, la dimensione dalla foto non si capisce, ma nel formato jumbo, che è quella che ho io, che adopero normalmente per l'8x10, è una bella dimensione, una bella tenda, e anche lì vedete, se guardate un attimo con attenzione, c'è un'apertura in pratica semicircolare, si vede addirittura anche la zip, l'aggancino che serve per aprire la zip, qui si apre e addoppia chiaramente, addoppia tenuta, cioè sono due zip una dietro l'altra, si apre, si mette dentro tutto il materiale, si richiude, si infilano le braccia dentro i manicotti e si fa l'operazione. Ora, tipicamente l'operazione, l'operazione significa questo, significa che spesso si mettono magari due, magari tre, quattro porta pellicole con film esposti, quindi in pratica otto scatti, e sulla destra si mette la scatola, dove si mettono, dove si vogliono mettere i negativi esposti, e in un colpo solo, quindi senza aprire e chiudere, aprire e chiudere, si fanno otto trasferimenti. Ora, ci sono buone notizie e brutte notizie. La buona notizia è che, perché si fa questo? Perché così si riduce il numero di volte che si apre e si chiude la tenda, con rischio che, specialmente all'aperto dove c'è del vento, possa entrare accidente del pulviscolo, della polvere, cose di questo genere. Per cui questa operazione di aprire e chiudere, uno dovrebbe farla almeno possibile. Quindi, quando la fa, uno ci mette dentro tutte le pellicole che ha sviluppato, oppure tutti i porta pellicola che vuole caricare, e così poi carica in una volta sola. Questa è la bella notizia. Adesso arriva la brutta notizia. La brutta notizia non è una brutta notizia. La brutta notizia è questa. Come potete immaginare, è un processo, quando uno ha 3-4 porta pellicola, che deve fare questi movimenti otto volte, che richiede tempo. vuol dire che le braccia stanno dentro per molto tempo, scaldano l'ambiente, scaldano l'ambiente, si può creare un minimo di vapore d'acqua. Un minimo di vapore d'acqua, le mani cominciano a sudare, sudate, toccano il negativo, ci siamo capiti. Quindi il mio consiglio è, cominciate con un porta pellicola solo, impratichitevi, diventate sempre più veloci. Quando siete diventati veloci, e avete capito i movimenti, potete cominciare a mettere due porta pellicola, tre porta pellicola, quattro porta pellicola, io vi dico che nella Harrison Jumbo io ci metto quattro porta pellicole, otto per dieci, e mi faccio i miei trasferimenti dalla scatola ai porta pellicola, o dai porta pellicola alla scatola, con i film esposti, in un relativamente breve lasso di tempo, senza che ci si creino sudori pericolosi. All'inizio sì, però per questo che ve lo dico, perché mi sono accorto che, se uno è un po' impacciato all'inizio, può stare dentro talmente tanto, che si appunto riscalda l'ambiente. Un altro argomento che bisogna toccare, anche se è un po', diciamo, non lo so, delicato, è questo, noi però ci parliamo chiaro. Ovviamente non si mettono le braccia dentro con camicie, golf, per carità di Dio, perché lì lasciano pelazzi di tutti i generi questi golf, piuttosto che le camicie, quindi braccia nude, anche a meno 35, sempre in canotira, no, braccia nude, quindi vi tirate su al limite la camicia, ma le braccia devono entrare belle asciutte dentro alla vostra tent. Ora, le braccia di alcuni di noi, questa è la parte dedicata, non sono, diciamo così, proprio glabre, hanno un minimo di peluria, ok? Ci siamo capiti, spero. quindi darsi magari una bella grattatina alle braccia, prima di, braccia nude, prima di ficcare dentro la tenda, fidatevi, è un buon consiglio questo qui, magari non lo leggete nei libri, però è un buon consiglio. quindi avambracci belli asciutti, abbiamo tirato via un po' di qualche residuo dei nostri antenati scimmieschi, ficcate lì dentro, stateci dentro il meno possibile, questo è un po' il mio consiglio. mi sembra che la Harrison riesca addirittura a gestire gli 11x14, non fate, dimenticatevi subito quello che vi ho detto, andate a controllare per conto vostro, però non vorrei sbagliarmi, secondo me effettivamente può gestire la giamba, la più grossa di tutte, gli 11x14, non 4 come nell'8x10, ma magari 1 si riesce a fare il cambio. Tutto questo chiaramente serve a un unico scopo, di trasferire il film alle scatole o il film dalle scatole al porta pellicola, ma noi potremmo avere altre esigenze. Una prima esigenza sarebbe quella di poter trasferire il film da sviluppato a una tank verticale, piuttosto che a un drum della Jobo, magari piccolo del 4x5, il livello, il passo più avanti ancora è chiaramente quello di sviluppare addirittura il film al buio nelle bacinelle, cioè non alla luce, cosa che permette appunto il Jobo o una tank verticale, ma dentro le bacinelle. Allora, quindi abbiamo bisogno di una camera scura, se vogliamo sviluppare dentro le bacinelle, oppure se dobbiamo trasferire, diciamo, un 14x17 dentro al drum della Jobo che vi ho fatto vedere prima, non lo posso fare in una di queste tende, quindi ho bisogno di una camera scura. No, non necessariamente. Ci sono soluzioni. Cominciamo dalla soluzione. La soluzione è una camera scura portatile come questa della Nova. A me risulta che sia l'unica, dico come questa della Nova, ma in realtà mi risulta che sia l'unica camera scura portatile. Come vedete, dentro a questa camera scura c'è addirittura un ingranditore, immagino che sia un ingranditore per il 135 mm, no, certo per il grande formato, però, questo per farvi vedere che questa è una tenda da campo, è una camera scura portatile, da campo, montabile, smontabile, che vi permette di ottenere del buio. Del buio in cui, per esempio, un buio che vi permette di cambiare il film e poterlo mettere dentro a un jobo drum. Questo in mezzo al prato? No, è ovvio che l'obiettivo non è quello. L'obiettivo è di poter avere una soluzione del genere quando uno non ha una camera scura in casa e non ha modo di farla, potrebbe tenersi una camera scura portatile come questa della Nova. Oppure, sul campo, come fa uno a cambiare il suo 14x17 negativo piuttosto che 16x20? Perché le tent che vi ho fatto vedere, lasciamo perdere la changing bag o la changing room, ma anche una changing tent come la Harrison non permette di cambiare un 14x17. È troppo piccola, pur essendo di notevoli dimensioni. Quindi, se io voglio cambiare il negativo sul campo, cosa faccio? Questa è una soluzione. La camera portatile della Nova non viene gratuitamente, è abbastanza cara, tanti, tanti centinaia di euro, potrebbero essere 600-700 euro. È studiata però da fotografi per fotografi a degli optional che vengono, che possono rendervi la vita più semplice. vedete in basso, sulla destra, vedete una strana cosa? Ecco, mi sembra che sia un aspiratore d'aria, per esempio. E su questo torneremo. Ecco, questa, la Nova che cosa vi permette? Vi permette di cambiare negativi di ultra grande formato, spostarli dal porta pellicole alle scatole o viceversa. mettere negativi di ultra grande formato, ma magari anche 8x10, dentro a delle jobodrum, che sicuramente sono troppo grosse per una tent. Con una tank verticale, come magari l'artifax, potrebbe essere possibile, io non escludo che sia possibile, con una Harrison tent, portare il negativo dal porta pellicoli alla tank verticale. Questo potrebbe essere possibile, effettivamente. Però, comunque, la Nova vi serve, vi risponde a queste esigenze. La Nova è l'unica soluzione, quindi, sì e no, nel senso che ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra che vi propongo con un po' di titubanza, ma è importante, secondo me, che sappiate che esista. La soluzione, c'è una soluzione alternativa, che è quella delle tende idroponiche. Allora, le tende idroponiche sono delle tende, è una soluzione relativamente economica, costa, mi sembra, un terzo, un quarto della Nova. Le tende idroponiche sono delle tende per la coltivazione di, diciamo, vegetali vari. Ok? Ecco. Sono tende, pensate a non far uscire la luce non fa entrare, ma il discorso è lo stesso, una via o l'altra non fa differenza. Sono tende, quindi, che potrebbero essere utilizzate ai nostri scopi in linea di principio. Come vedete, le misure sono importanti, 120 per 120 per 200, una piccola, addirittura 200 per 200 per 200. Non vi do i nomi perché si trovano su eBay, nomi che cambiano ogni minuto, quindi le trovate tantissime su eBay, offerte da vari produttori. Parliamo un attimo di queste tende idroponiche. Allora, le tende idroponiche soffrono di tre problemi e mezzo e cominciamo a guardare quei problemi. Il primo problema è ci sono infiltrazioni di luce, nel senso che la tela, il materiale con cui sono fatti è a tenuta di luce, assolutamente non c'è problema, ma dove ci sono delle giunte, dove ci sono le zip, lì ci possono essere e ci sono delle infiltrazioni di luce. Il problema è risolvibile, nel senso che basta entrare dentro la tenda, si accendono tutte le luci il più possibile fuori dalla tenda, si aspetta un attimo che gli occhi si abituano e dopodiché si vedono tutte le infiltrazioni di luce e muniti di questi nastri, quelli che si chiamano negli Stati Uniti duct tape, cioè questi nastri molto plasticati, plasticati, stoffati e plasticati, molto forti, fortissimi, neri ovviamente, si mettono nei punti critici dove ci sono le infiltrazioni di luce e il problema si risolve. Ve lo dico io perché io ho avuto e ho usato una tenda idroponica per 7-8 anni e non ho mai avuto problemi e l'ho risolto in questa maniera, anche perché ci sono le infiltrazioni di luce ma sono poche, non sono decine, ce ne saranno 4-5, una volta sistemate quelle il problema è sistemato, quindi è un problema sì ma si risolve. Secondo problema, come si entra e come si esce? Perché la zip è solo fuori, non è dentro e fuori, per cui uno zippa, entra, richiude un po' e poi allora, il problema è risolvibile in due modi, uno avendo un baldo e valoroso assistente che sta fuori e gli si dice aprimi oppure chiudimi e apre e chiude, io l'ho avuto per anni, si chiamava moglie e la quale benedetta donna mi apriva e mi chiudeva, però, però, potevo anche farne a meno in tutta onestà e quindi non sfruttate il vostro aiutante di campo perché si può risolvere il problema. Il problema è come si risolve? Il problema è che si risolve molto facilmente. Queste zip voi la chiudete fino a lasciare 10 centimetri. Questi 10 centimetri sono sufficienti per ficcare il braccio in mezzo dentro alla zip e dall'altra parte girarla e aprirla quanto basta perché voi possiate uscire. Quindi ficcate il braccio fuori, chiudete la zip, lasciate quei 10 centimetri e tirate il braccio dentro e quei 10 centimetri con una patella nera di cartone nero e sempre questo famoso nastro bestiale stoffato, plastificato il duct tape con questa patella chiudete quei 10 centimetri. Non avete bisogno dell'assistente la cosa funziona benissimo. Il terzo problema merita molta attenzione. Il terzo problema è il seguente. Il ricambio dell'aria è chiaro? Il ricambio di aria è pessimo. Assolutamente non fateci alcuno sviluppo dentro una tenda di questo genere. Chiaro? Io come l'adoperavo? Io l'adoperavo in due modi. Uno l'adoperavo per poter cambiare il negativo cioè portavo i miei negativi 14x17 dal jobo dram alla scatola dalla scatola al jobo dram e questo era un uso. L'altro uso ci facevo le stampe a contatto nel senso che io avevo appeso una lampadina portare l'elettricità dentro a queste tende non è un problema infatti perché sono pensate per avere un cavo che entra dentro con l'elettricità. Io avevo appeso una lampadina e dentro ci facevo le mie esposizioni delle stampe a contatto ma io non ci ho mai fatto nessuno sviluppo secondo me è pessima idea farci qualunque genere di sviluppo proprio perché ricambio di aria non c'è pastite dal presupposto che non ci sia. Tre problemi e mezzo mezzo la struttura è una struttura semi permanente parliamoci chiaro la nuova è una camera portatile pensata per essere montata e smontata queste strutture non sono pensate per essere smontate e montate non pensate di poterla comprare e dire oh guarda è domenica pomeriggio che bello non c'è nessuno in casa monto la tenda mi faccio due o tre esposizioni cambio un po' di film che avevo lasciato lì problema risolto no no cosa serve quindi? Serve in questa ottica avete uno spazio non lo so un solaio un sottoscala che non è utilizzato lì abbandonato che non riuscite a rendere la tenuta di luce ecco quello è un posto dove potete mettere una tenda idroponica in pratica permanentemente ok quindi questo è un problema secondo me per me è un mezzo problema perché se avete questo spazio siete a posto il problema non è un problema però pensavo che fosse importante segnalare ok quindi ripeto ancora non sviluppateci nulla ok ok